Lo sportello del cittadino è a Taranto in via Cesare Battisti per rappresentarvi una situazione incredibile. Una ditta, credo, per realizzare i lavori di installazione della fibra ha a dir poco sfregiato, ha a dir poco stuprato, passatemi l'espressione forte, il manto stradale. Guardate come è stata prima aperta la strada e poi come è stata riasfaltata in maniera animalesca, in maniera pedestre, in maniera vergognosa. Io dico che questa ditta che ha operato in questo modo si è dimostrata è incapace e disonesta, senza mezzi termini. Con la pioggia, come testimoniano le immagini, si creano degli avvallamenti delle conche d'acqua e queste conche d'acqua poi vanno a, proprio l'acqua, vada ad infrangersi con, da dinanzi contro gli stipiti, anche di ferro, delle attività commerciali. E vedete proprio qui cosa è successo, incomincia appunto ad arrugginirsi. Ora la ditta è incapace e lo abbiamo capito bene, oltre che disonesta, perché fare un lavoro del genere è da disonesti, ma anche l'amministrazione comunale deve intervenire in maniera durissima. Qui bisogna interdire alle ditte del genere, in particolare a questa ditta, non solo di fare più lavori sul territorio di Taranto, ma questa ditta deve essere chiamata ai danni. Io vorrei che il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici prendessero per il cravattino la ditta, il titolare della ditta, e veramente lo mettessero con il muso davanti all'asfalto. Passatemi l'espressione abbastanza colorita e forse anche un po' volgare, ma andrebbe messo con il muso davanti a questo schifo, a questo scempio che ha compiuto. Non si può sfregiare il territorio tarantino. Allora a questo punto si deve vietare a certe ditte di installare ciò che si intende installare. Ora è il caso della fibra, poi ci sono stati lavori a livello di impianti elettrici e quant'altro. Ma al di là di questo, io pretendo che gli uffici tecnici dei lavori pubblici, non io ma lo pretendono i cittadini, facciano i rilievi del caso. E durante il corso dei lavori e alla fine, perché se no poi alla fine ci ritroviamo con la frittata belle fatta. Poi magari queste ditte vengono pure pagate e oltre il danno la beffa. E il comune di Taranto risulta cornuto e mazziato. Guardate un po' se si può lavorare in questo modo. C'è un signore della zona che vive questa realtà e vuol dirci qualcosa. Qui quando piove è l'inferno. Io sono il suocero del titolare del panificio. Ho ripreso la ditta mentre facevano i lavori. Hanno detto che per adesso è così, poi faranno l'asfalto. Ho chiamato i vigili, sono venuti a fare due rappezzi, ma si vede oggi la conclusione. Non c'è niente di fatto. Bene, io penso che queste testimonianze siano più efficaci di ogni mia affermazione. Non è possibile che Taranto debba essere trattata così. Taranto forse ha bisogno di un sindaco sceriffo. Questa è la verità. Con certa gente, con certe ditte ci vuole lo sceriffo.